Isha Kriya è parte di un movimento nato per offrire almeno una goccia di spiritualità ad ogni essere umano del pianeta. Non sottovalutare la grandezza di questa goccia, una goccia e un oceano di per sé. Questo è un potente strumento di accrescimento. La nostra speranza è che tu gli permetta di toccare e trasformare la tua vita e che tu lo condivida con il maggior numero di persone possibile. Isha significa ciò che è la fonte della creazione. Kriya significa un'azione interiore verso questa fonte. Karma significa azione verso l'esterno. Se compie un'azione con il tuo corpo o con la mente o con le tue emozioni o con le tue energie fisiche, la chiamiamo Karma. Se compie un'azione interiore che non coinvolge nessuno di questi aspetti, allora la chiamiamo Kriya. Quindi Isha Kriya è un processo estremamente semplice, ma un potente strumento per muoversi costantemente dalla non verità alla verità. Ci sono processi più complessi ed efficaci, ma è necessaria una preparazione, è necessario un certo tipo di insegnamento, è necessaria molta preparazione perché qualcuno possa insegnarli. Ma questo è un processo… generalmente, tutti i processi, i processi spirituali che portano una persona in questa direzione, comportano anche cambiamenti fisiologici. Ogni volta che si determinano dei cambiamenti fisiologici, è estremamente importante che l'insegnante sia adeguatamente addestrato. In caso contrario, si generano quei bizzarri tipi di yoga che si stanno diffondendo da tutte le parti e che possono causare più danni che benessere. Ma quegli aspetti, quei processi che non implicano nessun tipo di cambiamento fisiologico, ma determinano una trasformazione spirituale, che sono davvero pochi, quelli possono essere insegnati su vasta scala e possiamo dare il potere di insegnarlo quasi a chiunque abbia almeno una minima buona intenzione nei propri pensieri ed emozioni. Se c'è almeno questo, possono insegnarlo. Faremo questo processo ora. Dovete capire un minimo di cosa si tratta. State tutti respirando qui in questo momento? Controllate, per favore. non date nulla per scontato. Non continuerà per sempre. Un giorno si fermerà, sapete? State respirando adesso? Tu? Per favore, controllate. Non datelo per scontato. State veramente respirando? Ci siete? Ok. Questa è ispirazione, 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 ispirazione. L'inspirazione successiva non avviene? Pfff! Non ci sei più. Guarda quanto sei fragile. Basta che questa singola ispirazione non avviene? Pfff! Ovunque guardiamo, non ci sarai più. Allo stesso tempo, la vita umana è così fragile. Allo stesso tempo, quanto è resistente? Quante cose può fare un essere umano in questo mondo? Da un punto di vista, sembra essere così fragile. Basta osservarlo e vedrete. Non ritorno? Puff! Troppo fragile, non è vero. Lo avete dato per scontato, non ne siete consapevoli. Se ne prendete coscienza e lo osservate, è una vita maledettamente fragile. Allo stesso tempo, come è resistente? Quante cose può fare? Questa è la bellezza della creazione. Ogni cosa è delicatamente bilanciata. Così delicatamente che non puoi disturbarla. Non facilmente, sapete. Tutta la creazione è così. È proprio così. Ciò mostra la maestria del creatore. È così delicatamente bilanciata che vuol dire, che mostra, che manifesta la maestria del creatore. Ciò che crea è di una tale maestria che può permettersi di mantenerlo così delicato. Quindi questa è l'audacia del creatore. Un respiro, se non ispiri, te ne sei andato. Ma ecco la sicurezza nel progettare che il creatore ha in sé. Quindi questo respiro non è solo uno scambio di ossigeno e nitride carbonica. Nello yoga, questo lo chiamiamo Kurmanadi. Ci si riferisce al respiro come Kurmanadi. Ora, se ti chiedo di osservare il tuo respiro, che è la pratica più comune che viene proposta oggigiorno, non riuscirai a osservare il respiro. Pensi di stare osservando il respiro, ma non stai osservando il respiro. Sarai solo in grado di notare le sensazioni causate dal movimento dell'aria. Se qualcuno seduto di fianco a te ti tocca la mano, pensi di conoscere il tocco dell'altra persona, ma non lo conosci. Conosci solo le sensazioni generate nel tuo corpo. Non sai cosa sente l'altro. Conosci solo il tipo di sensazione che è avvenuta nel tuo corpo. Sì? Capite cosa sto dicendo? Quindi, in questo momento, non conosci il respiro. Conosci solamente le sensazioni causate dal respiro. Quindi, quando noi diciamo Kurmanadi, non stiamo parlando delle sensazioni. Stiamo parlando del respiro stesso. Kurmanadi è descritto come un filo. È come un filo. Un filo ininterrotto che va avanti. E questo è il filo che lega te a questo corpo. Se ti togliessi il respiro, tu e il tuo corpo vi separereste. Quello che pensavi fosse uno diventerebbe due. Questa è la prima illusione. Sono due che agiscono come se fosse uno. Un'illusione in atto. Quindi, se ti strappassi il respiro, tu e il tuo corpo vi separereste. Non vogliamo che si separino. Ma se la tua coscienza viaggia con il respiro, se la tua consapevolezza viaggia con il passaggio del respiro con abbastanza intensità, allora vedrai, vedrai distintamente, che questi due non sono uno. Ciò che sei tu e ciò che è il tuo corpo sarebbero separati. Ciò che sei tu e ciò che è la tua mente sarebbero separati. Se tu e la combinazione del tuo corpo-mente vi separate l'uno dall'altro, improvvisamente ti renderai conto che la tua abilità di utilizzare il tuo corpo e la tua mente incrementa in maniera fenomenale. Sei in questo momento, su una scala da uno a dieci. Giusto, il più alto è dieci. Se è così, se sei legato o sei coinvolto con questo corpo, sei a meno di uno. Ecco, lì è dove sei. Se queste due cose si separano, improvvisamente puoi balzare su fino a dieci. La tua abilità di utilizzare la mente e il corpo migliora così tanto che sembrerai quasi sovrumano agli occhi di qualcun altro. Ma vi sto dicendo che questo è umano. Non si tratta di diventare sovrumani. Si tratta di rendersi conto che essere umani è super. Sì, non è una cosa semplice essere umani. Ora, l'iscia kriya consiste solo in questo. Il tuo pensiero ricopre un ruolo molto importante nella tua vita ora. Quindi utilizziamolo. Il tuo respiro è vitale. Quindi utilizziamolo. E senza la tua consapevolezza, non sapresti nemmeno di essere qui adesso. Se non sei consapevole, non sai nemmeno se sei vivo o morto, o se esisti o no. Quindi questi tre ingredienti, il tuo respiro, il tuo pensiero e la tua consapevolezza, nella combinazione giusta, se li utilizzi, vedrai che lentamente una piccola distanza si crea tra te e il tuo corpo. Ora ti stai chiaramente muovendo dalla falsità alla verità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.